Buongiorno a tutti, ci troviamo qui all'interno del Palazzo del Principe Carlo Maria Carafa, sede di Diplomazia Culturale per il Farm Cultural Park. Altro appuntamento importante oggi, in questa giornata, perché insomma la città di Mazzarino con il suo barocco, ricco di monumenti e stile barocco, oggi è oggetto di interesse di alcuni studenti del corso di laurea di architettura di Enna e sono qui per alcune cose importanti che riguardano Mazzarino. Abbiamo il professore del corso di laurea Maurizio Oddo, tra l'altro anche presidente del corso di laurea che appunto guiderà i lavori e avrà questa sovrintendenza in questo impegno degli studenti che parte qui, proprio dal Palazzo di Carlo Maria Carafa. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Bene, professore, workshop internazionale di progettazione qui a Mazzarino, cosa vuol dire? Allora, Mazzarino è una realtà straordinaria. Io lavoro a Enna, quindi non molto distante da qui e grazie ad alcune tesi di laurea che ho seguito negli anni ho avuto modo di conoscere Mazzarino che a Torto è ritenuto un centro secondario, ma di fatto osservando le chiese, il palazzo dove ci troviamo adesso credo che abbia appunto la dignità di una città importante, di una città del barocco ma di un barocco confrontabile anche con centri importanti, non solo siciliani ma anche italiani. Siamo qui, abbiamo risposto all'appello di Andrea Bartoli, questa persona straordinaria che tutti dovrebbero a mio avviso conoscere. Siamo stati proprio all'interno di questo edificio straordinario e anche l'atteggiamento di Bartoli, quello di coniugare la contemporaneità con il passato e questo è un elemento che devo dire a Torto pecca, cioè è un limite per la Sicilia come se questo passato dovesse essere fermo per sempre e questo credo sia una delle remore. Bartoli dimostra proprio il contrario. Oggi sentendolo quando ci ha guidato all'interno dell'edificio pensavo all'imperatore Adriano. L'imperatore Adriano guardava fuori dalla sua città le cose che poi in qualche modo si portava dentro costruendo quella straordinaria testimonianza che è la villa Adriano di Tivoli e lui ci ha raccontato un po' così, cioè lui vede le città, vede Detroit, inventa Detroit a Mazzarino, vede lo spazio arabo e ne fa la corte di ingresso dell'edificio l'atteggiamento corretto secondo me è proprio che bisogna avere nei confronti del passato. Oggi cosa farete a Mazzarino sostanzialmente? Noi ci siamo dati un programma ambizioso perché staremo qui oggi domani anche poi il fine settimana credo poi il giornotto ci sarà anche una sorta di presentazione di questi lavori è un workshop che in qualche modo impegna gli studenti dell'ultimo anno alcuni anche laureandi partiremo proprio dallo spazio in cui siamo questo giardino pensile straordinario che avevo avuto modo di conoscere prima giardino pensile all'italiana quindi è uno spazio anche interessante del verde all'interno del centro storico urbano e questo giardino abbiamo pensato già dal primo momento di dedicarlo al Pau cioè al Pavone il nome siciliano e diventerà appunto il giardino di Pau perché il Pavone ha diciamo tutta una simbologia straordinaria che parte dall'antichità romana che arriva alla contemporaneità tra l'altro manco farlo cioè è stata veramente una coincidenza ma credo le coincidenze siano importanti nell'arte e nell'architettura e ci dicevano che proprio l'aristocrazia di Mazzarino allevava i Pavoni quindi questa cosa ci ha sorpreso molto tanto che abbiamo cercato di convincere Andrea Bartoli acquistare una coppia di Pavoni per poi inserirli all'interno di questo giardino una volta completato e oltre ovviamente a questo giardino faremo una sorta di lavoro di mappatura della città in modo da poter proporre ai cittadini un lavoro di forestazione urbana che va perfettamente in tema con le cose che stiamo assistendo di cui tutti i giornali e i giornalisti parlano quindi una sorta di lavoro anche di rigenerazione urbana di rifunzionalizzazione di un centro storico di tutto il rispetto che si sviluppa su questo asse tra la zona diciamo attenente alla chiesa di Santa Maria di Gesù e alla chiesa della Madonna del Mazzaro sì assolutamente sì lei dice bene riforestazione urbana rigenerazione ma anche riforestazione urbana come si sposano le cose assolutamente sì il verde deve dobbiamo smettere di pensare al verde come elemento decorativo dobbiamo smettere di pensare al verde come qualcosa che va messo laddove non c'è nulla da fare il verde deve diventare protagonista ce lo stanno dimostrando molte cose ahimè negative i cambiamenti climatici la deforestazione noi invece riforestiamo e credo che Mazzarino essendo uno spazio anche diciamo dell'entroterra si presti molto bene a questa sperimentazione urbana che diventa anche sperimentazione di riforestazione dicevo prima è un lavoro che coinvolge gli studenti diciamo mi piacerebbe sentire anche alcuni di loro sì magari chiamiamo qualcuno ragazzi qualcuno potete venire potete venire questo lavoro di workshop saranno coordinate dai tutor che sono come dire il braccio destro i tre bracci destro e l'ingegnere architetto Alessandro Barracco un diciamo assistente storico a cui si aggiunge poi il giovane Domenico Pistone che si è laureato di recente e che diciamo un autoctono quasi di Riesi e poi diciamo l'autoctono per eccellenza che è l'architetto Salvatore Toscano che si è laureato con me qualche anno fa e con il quale abbiamo anche iniziato questo lavoro di studio su Mazzarino lavorando su una tesi che ha avuto un grande successo che era quella dell'end front di Mazzarino perché è di modo a parlare di water a fronte dove c'è mare ma io penso che in Sicilia il mare è anche l'assenza per cui ci siamo inventati questa cosa del land front ed è uscito fuori un lavoro molto interessante che spero lui presenterà e se c'è occasione anche di mostrarlo dell'entroterra che insomma nel passato era trascurato perché il turismo era rivolto verso la costa secondo me bisogna tornare indietro sicuramente ingegnere Barracco magari si avvicina quel professore così le porge il microfono un buongiorno buongiorno un lavoro interessante dunque per la città di Mazzarino quello dei ragazzi che praticamente ecco diventano a contatto delle realtà di un centro di tutto rispetto quale Mazzarino ma è inevitabile che degli studenti dei giovani studenti di architettura anche se mai prossimi alla laurea sono studenti di quinto anno debbano necessariamente mettere le mani letteralmente sulle emergenze architettoniche non dico le mani sulla città perché farei riferente a un film di Rosi tristemente vuol dire un film di denuncia no in questa casa è assolutamente l'eccezione più che positiva l'architetto a differenza dell'artista Tokur ha necessità di dover esperire lo spazio e di dover progettare lo spazio quindi quale modo migliore da un punto di vista sia didattico che di restituzione anche dalle conoscenze di un giovane sull'interchitettura per le nostre città è quella di farlo visitare fargli vivere letteralmente la città di giorno di notte il workshop ha proprio questa finalità quella di far immergere diciamo il partecipante si certo è quella di far immergere i partecipanti all'interno dello spazio che poi dovranno progettare chiaro è un toto di tv insomma come vedete sta fotografando questi momenti che non sono stati nel passato molto copiosi qui nella città di Mazzarino Andrea Bartoli insomma non vorrei esagerare nell'espressione ma forse passerà alla storia come il fautore del rinascimento mazzarinese così come lo fu Mazzarino nel 1600 con il principe illuminato Carlo Maria Carafa della famiglia dei Branciforti l'architetto Domenico Pistone preo architetto insomma con lui siamo primi cugini perché della vicina della vicina Riesi architetto le voglio fare una domanda un poco lei è giovane conosce Mazzarino si conosce Mazzarino le volevo dire ma noi oggi come contemporanei siamo in grado di lasciare a chi verrà dopo di noi quello che noi abbiamo ricevuto ma di lasciarlo anche in buone condizioni in condizioni così come lo abbiamo ricevuto o c'è un po' lei che è un buon giovane o c'è questa inguria da parte della politica le istituzioni in generale guarda io sono in realtà un ottimista di natura quindi credo fortemente che l'azione insomma noi qui lo dimostriamo oggi Andrea lo sta dimostrando con tutto ciò che ha fatto credo che intanto si inizia a fare e l'università ci dà le basi anche la forma mentis per cercare di agire l'incuria il contesto poi hanno senso se in qualche modo appunto indagati investigati e affrontati e da poco che è laureato lei? io sì da poco e che idea visto che insomma è di riesi che idea si è fatta di Mazzarino di questa Mazzarino barocca? no vabbè ma io insomma come cugino riesino ho frequentato continuo a frequentare Mazzarino ed è inevitabile perché Mazzarino barocca è la perla del Nisseno ed è fondamentale questo intervento è fondamentale la nostra presenza qui non solo come giovani architetti ma come giovani appartenenti alla Sicilia a un territorio più vasto che deve coinvolgere deve essere appunto Mazzarino è un punto di partenza per coinvolgere i territori limetrofi e come è stato fatto con il Seicento con Carlo Maria Carafa credo e spero venga fatto e affrontato in questo momento storico fondamentale Farm Cultural Park quindi questo centro culturale indipendente ne parla sempre Andrea dunque può essere come dire un momento di rilancio per una città ricca di beni architettonici paesaggistici monumentali in genere sì sì è la cosa interessante di Farm che è uno degli slogan uno degli slogan che in qualche modo credo lo identifichi meglio è che è Farm il museo delle persone e allora Farm da sola come l'università da sola come ognuno di noi può fare poco ma ha senso questa azione se collettiva quindi sicuramente Farm sarà un volano ma dobbiamo essere noi tecnici noi cittadini e noi appunto cittadini del domani e di investire sul nostro futuro professore Odd insomma sono questi gli architetti che escono dalla vostra facoltà di architettura di core sono questi assolutamente sì io sono orgoglioso di fare parte della core da 12 anni dopo aver anche insegnato in altre facoltà stiamo dimostrando che la core è un'università un corso di laurea io ovviamente parlo soprattutto del corso che ho anche l'onore dal primo dicembre di presiedere che è il corso di laurea in architettura non teme confronti con le altre con le altre realtà e stiamo cercando di dimostrarlo preparando giovani studenti lo stiamo dimostrando attrezzando un'università che il nostro rettore il professore il magnifico Gianni Puglisi ha definito la Trento dell'università del sud perché diciamo di fatto è un'università molto presente ed è un'università che si lega fortemente al territorio e grazie anche ai numeri devo dire abbiamo questa possibilità di entrare nel come dire un contatto diretto con gli studenti a loro volta con le loro città e io ho seguito diverse testi di laurea su Mazzarino e quindi questa è la testimonianza come dire reale del lavoro che noi portiamo avanti lei diceva prima a proposito di Bartali che è una sorta forse lei dice esagerando penso che possa essere con il quale muoverà il rinascimento di Mazzarino ma io come dire estendo questo suo augurio credo anche a tutta la Sicilia per intero perché lui è partito da Favara si sta fondando messo piede ovviamente su questo straordinario territorio che è quello di Mazzarino ma io ho anche l'ambizione se mi consente di contribuire ad estendere ancora di più perché per motivi anche di natura politica però politica positiva sicuramente io penso di interesse per la polis del territorio della polis e quindi del cittadino io cercherò di coinvolgere Andrea Bartoli per l'estremo per la Sicilia come dire estremo occidentale io insegno ho la fortuna di insegnare ad Erice ma ho anche la fortuna di vivere insegno ad Enna e ho la fortuna di vivere ad Erice che tra l'altro sono due realtà molto molto simili già dallo skyline delle due montagne che diciamo caratterizzano questo territorio coinvolgerò cercherò di coinvolgere Bartoli spostandoci anche verso l'occidente di questa nostra isola che è un continente straordinario bene vogliamo ascoltare ora professore un altro suo allievo oggi architetto mazzarinese insomma quindi lui è l'architetto Salvatore Toscano l'architetto si avvicina tra l'altro anticipo solo questo lui si è occupato nella sua desilaure proprio di Mazzarino e abbiamo lavorato sull'idea di land front per quanto riguarda Mazzarino perché Mazzarino secondo me è una città territorio quindi a parte le bellezze il barocco ma c'è questo contatto diretto no? fra territorio campagna e città che è veramente unico architetto toscano dunque da un po' da alcuni anni insomma laureato quanti anni? laureato nel 2015 nel 2015 sono passati un po' di anni la sua tesi di laurea riguardante Mazzarino in che cosa è consistita? allora il lavoro della mia tesi riguardava un pezzo di città ovvero la fascia verde che collega il centro della città che tutti conosciamo come Arenazzo piazza Francesco Gesualdo fino al castello medievale quindi è una fascia verde è una fascia di campagna che come prima diceva il professore entra all'interno della città ed è percepita all'interno della città perché è proprio da quel punto il centro della città che si vede il castello e tutta la campagna circostante eppure anche i paesi vicini è una zona diciamo una fascia un po' abbandonata a se stessa organicamente non c'è ordine nel paesaggio quindi quale potrebbe essere una soluzione che dia equilibrio a una zona che poi vada a contorno che come dire ti invita poi a vedere il castello medievale sì allora quella viene definita un territorio che è di tutti ma non è riconosciuto da nessuno ovvero è quel pezzo di città quel pezzo di campagna che entra all'interno della città che ha tratti coltivata ha tratti abbandonata a se stesso e all'inguria del tempo oggi e anche nel 2015 quando abbiamo fatto questo lavoro questa tesi di laurea è stata appunto oggetto di riqualificazione come può essere riqualificato senz'altro ponendo l'attenzione su quello che c'è lungo il percorso quindi a partire dal centro della città l'abbeveratoio il canale il canale sì un monumento storico piazze e belvederi che si incontrano lungo il percorso fino ad arrivare al castello e ricordiamoci che dietro al castello c'è pure il teatro fatto negli anni Ottanta oggi non più utilizzato quindi sarebbe l'ora di riqualificare tutta questa fascia verde per renderla appunto fruibile e anche un bel posto diciamo dove poter frequentare e anche per riqualificare questo fronte città che appunto caratterizza molto Mazzarini fondamentale dunque quasi indispensabile questo connubio tra natura e spazi dico di spazi urbani e monumenti sì 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 come dicevo prima è essenziale come si riqualifica si riqualifica come dicevo prima tenendo conto del luogo delle architetture ma anche dell'archeologia presente e senz'altro anche della natura è un pezzo di natura dentro la città e all'interno di questa fascia verde come ho già detto sono presenti tanti punti di interesse mi cito uno il belvedere dell'Immacolata per esempio rappresenta un luogo oggi dimenticato ma con un po' tutto in disordine ma con grande potenziale bene questi sono i nostri giovani architetti dai quali dipenderà anche il futuro storico architettonico monumentale delle nostre città di una città come Mazzarino che veramente chi arriva qui a Mazzarino io per diversi anni ho fatto la guida turistica in queste città chi arriva qui se ne innamora perché non è difficile scoprire Mazzarino lungo questo asse centrale questo corso ottocentesco riguardo alla pavimentazione nel quale poi si affacciano quasi come delle sentinelle i palazzi le chiese i conventi complimenti architetto attualmente lei cosa grazie lavoro parallelamente svolgo lavoro a scuola quindi faccio il docente ma parallelamente svolgo libera professione in qualità di architetto qui a Mazzarino insomma il professore Oddo ha avuto un buon maestro si eh bene complimenti grazie e auguri bene per le conclusioni passiamo ancora il microfono al professore architetto Maurizio Oddo tra l'altro ecco architetto del paesaggio che vuol dire architetto del paesaggio eh purtroppo oggi devo dire parto dalla nota negativa no tutti parlano di verde di giardino di paesaggio però quando si arriva al focus eh non si conoscono manche i nomi delle piante no è come costruire un edificio ma non conoscere materiali per sentito dire forse dobbiamo utilizzare e il problema è notevole cioè la crisi ambientale i problemi che basta sfogliare un giornale un quotidiano viene come dire quasi la nostalgia dei vecchi tempi del paradiso di un tempo no noi penso che oggi abbiamo questa grossa responsabilità noi dico come cittadini noi come architetti noi come docenti soprattutto perché dobbiamo formare eh architetti che dovrà a cui dovremmo poi affidare questo territorio no quindi se continuiamo con questa idea di uno spazio di un'architettura di una storia che non può essere deve essere congelata per sempre riprendo la domanda che lei faceva prima al a Pistone ma noi come ci poniamo oggi nella contemporaneità noi abbiamo sì il compito arduo di conservare e diciamo tramandare questo che c'è stato a nostra volta come dire che abbiamo ereditato ma abbiamo anche il dovere di progredire perché la storia non si può fermare quindi il tema è proprio questo e credo che oggi paradossalmente se di aspetti positivi si possa parlare di questa maledetta pandemia che stiamo tutti attraversando e credo che uno dei punti favorevoli di sviluppo sia questo flamigerato PNRR dove gran parte è legata al tema del verde alla forestazione il piano di rigenerazione resilienza quindi di recupero ovviamente che passa attraverso un decreto ministeriale che passa attraverso un decreto ministeriale fondi ovviamente europei abbiamo una grande responsabilità soprattutto per noi che dovremmo occuparci anche di progettare il futuro tra virgolette e io penso che una delle leve forti di questo progetto sia rappresentato proprio dal verde leggevo l'altro giorno addirittura 300 milioni legati proprio alla piantumazione di alberi il futuro è lì insomma il tutto si inserisce poi in questo discorso del cambiamento climatico insomma perché l'uomo un po' ha violentato parecchio la natura bene concludiamo così questa interessantissima intervista perché i progetti di Farm Cultural Park non sono soltanto progetti che riguardano gli studiosi che arrivano qui ma che riguardano anche un corso universitario di una certa elevatura abbiamo visto insomma anche il modo di rapportarsi di alcuni ragazzi che oggi architetti usciti appunto dalla facoltà di architettura di Enna vi facciamo i nostri complimenti grazie fateci ci riprendiamo tutti perché siamo una giovane realtà che informazione vi spettano vi spettano siamo nelle vostre mani il futuro dipende anche da voi assolutamente sì e noi ce la mettiamo tutta da questo punto di vista proprio per formare giovani architetti anzi diciamo una sorta di appello iscrivetevi a Enna che dicevano è una facoltà ripeto di tutto rispetto lo dico io vabbè la presidenta del corso di laurea ma invito questi giovani aspiranti architetti a venirci a trovare invito anche lei ne parlavamo stamattina questa biblioteca con piacere e mi farebbe molto piacere averla ospite lì con piacere con piacere ebbene concludiamo qui con una chicca insomma come stampa come giornalisti il professore di Erice giusto il professore forse ha l'intenzione forse quasi definito lo abbiamo appreso noi da fonti da fonti attualmente non ufficiali il professore forse inizierà una bellissima avventura della città di Erice sarà forse non so se è certo candidato a sindaco tra due anni nella grande l'anno prossimo no quest'anno ah quest'anno quindi quando a giugno diciamo in via domenica dovrebbe diciamo uscire questa candidatura quindi ormai insomma ci siamo imminente imminente e allora auguriamo gli auguriamo di ci auguriamo di rivederla e di intervistarla oltre che come professore come presidente del corso di laurea di architettura anche come sindaco di Erice grazie proprio un auspicio straordinario inaspettato la ringrazio molto a volte come dire le cose inaspettate valgono ancora di più veramente in bocca al lupo in bocca al lupo auguri auguri a volte al lupo grazie a tutti